La prevenzione, prevenire è l'unica strada, creare una cultura delle corrette regole di guida. Solo attraverso la creazione di questa cultura delle corrette regole di guida si può porre il freno a questo aumento consistente di sinistri stradali. Secondo me siamo sulla strada giusta, io ho voluto fortemente questa iniziativa appena insediatomi perché è la strada da seguire, la prevenzione e la cultura della legalità alla guida. La prevenzione è l'arma più efficace per evitare gli incidenti stradali, sottolinea il nuovo comandante della postata di Avellino, Nicola Ciccone. Un bollettino di guerra, quello registrato anche lungo le strade della nostra provincia. Fondamentale trasmettere la cultura della sicurezza stradale ai più giovani. Stamane estendo informativi a test davanti alla villa comunale di Avellino in campo agenti e istruttori che hanno illustrato agli studenti i pericoli che corrono sempre più veloci lungo la strada. Siamo qui col camper azzurro della Polizia di Stato che è un'aula didattica multimediale attraverso dei piccoli giochini, alcuni percorsi, faremo fare dei percorsi agli studenti con degli appositi visori che simulano la guida sotto l'effetto di ebrezza alcolica appunto per far comprendere quelli che sono i rischi e i pericoli connessi alle distrazioni, alla guida ai ragazzi. La guida è in stato di ebrezza al telefonino. Ogni distrazione può essere fatale, avverte il comandante Ciccone. Nell'ambito della sicurezza stradale, anche la manutenzione delle arterie occupa un ruolo importante.